Eccoci con Samuele Ranasinga, attaccante del Busalla, match winner assoluto di quest'oggi con una doppietta. Che partita è stata? Partita difficilissima sicuramente perché questa Margheritè è una squadra che ha giocato veramente forti. Sono contento di essere riuscita a sbloccarla su un episodio e poi abbiamo resistito e per fortuna c'è stato un radocchio. Sono contento della prestazione della squadra, perché ce lo meritiamo e sono contento. Ti chiedo quant'è la soddisfazione per questa doppietta, specialmente in una partita così pesante anche per il tuo percorso? Tante, tanto, sono molto contento. Grazie sicuramente ai miei compagni per dare molta fiducia e spero che sia davvero una del loro. Spero, tanto, spero.